Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre vostro caro amico Alexio e benvenuti in questo nuovo video di Bullish Scholarship Addiction nello scorso episodio avete visto parecchie colpi di scena che cazzo sta succedendo lì fuori? cioè io non posso neanche parlare un attimo che succede il panico di fuori comunque avete visto nello scorso episodio che ci sono stati parecchi colpi di scena e in questo nuovo episodio parliamo di altre tante missioni e scopriremo quanto tempo ho ancora prima di finire il gioco perché comunque l'atleta sta durando parecchio come avete visto non è che la cosa mi dispiaccia però comunque vorrei capire la fine insomma perché nemmeno io ai tempi dell'infanzia avevo mai finito questo gioco come ben sapete appunto io ci giocavo da quando ero piccolo e poi non ci ho più giocato perché comunque ho avvenuto la play e i tempi ormai sono passati sono usciti tanti nuovi giochi quindi sono usciti tanti altri giochi e quindi comunque il gioco è stato abbandonato per altri motivi insomma lo sapete già e ok la missione era questa questa me la ricordo nello scorso episodio di morto... che cozzo vuole cioè adesso anche la polizia la polizia di fuori della città mi deve cioccare perché io non sono a scuola ma fatti i cazzi tua porca puttana comunque io dovevo per fare questa puttanata missione di merda devo comprare la maglietta che io non mi ricordo dove si comprava vedo adesso entro un attimo e vedo come si compra ok si ho capito e il negozio di abbiamento ha old ball ball of field old ball ok dove cazzo sta sto negozio allora io adesso devo scop... eccolo questo è questo stavo dicendo dovevo scoprire dove era il negozio e qui proprio qui dietro ottimo oh cazzo non mi entrava l'altra volta la guardia hello hello ciao bello sto negozio un po' spoglio direi però carino allora senti io devo comprare una maglietta me la dai sta maglietta no per cazzo qui c'è il camerino qui sta vestiti ah proprio dentro al camerino qui sto vestiti allora devo acquistare la maglietta il maglione no non voglio il maglione io il maglione mi serve boh compramolo 17 dollari taci vostra ho acquistato? si ho acquistato era questo era il maglione si era il maglione scusate era il maglione che dovevo comprare si ah che cazzo cazzo però eh dov'è? senti io faccio una bella corsetta e ciao ciao non metto in culo si si guarda che mi prendi ciao cico bella per te no non ci provare a rompermi il cazzo anche tu ok sei contenta adesso posso entrare con questa maglietta oh le uova le uova finalmente posso fare stata una missione eh eh per le uova per le uova as they say in sure are you english? well no i just speak this way because i'm very insecure you see my father is a self-made man so i pretend to be old money but in fact i'm really nouveau riche but less about me dear boy listen we're going to egg that old codger's house cool smashing you go get some eggs and meet me and the chaps back into my house Vabbè, tocca Tocca Tirare tutte le uova su una casa Portare le uova a casa di Tad Ok Mi piaceva le uova, sì che ce l'ho Andiamo, andiamo Per fortuna che ce l'ho La devo comprare Mi pare venire l'altra volta Assolita Che cazzo è la casa sua? Ovviamente lo skate sulle scale Ma io di no Che cazzo è? Arte Aspetardi, ottimo E non è qua che devo stare, però Ho trovato degli oggetti ma non è qua che devo andare Qui che cos'è? Una scala Ah, qui è un'altra vietta Ciao, bello Grazie, belle case Oh, figo Isolate dal mondo, però so fighe Merti villoni Non sa quanto è lunga la strada Oh Che cazzo sta sta casa? Ho parlato, eccola Assolita Oh, mazza che villoni Oh Eh, eh Oh, eh, eh Oh, eh, eh Oh, eh, eh Quel cane di mer... Oh Acci tua Ma ha attaccato il cane Oh, tiene una bala passiamo a volta Brutto stronzo You gotta orte Tu hai ex, Hopkins? You bet Give them to me Take them Smashing Now, tell me Hopkins Is it true you said I was inbred? No, because first cousins is legal my friend Legal Yeah, okay Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum It doesn't mean anything Whatever, Tad, your family is your business Don't lie, Jimmy You said Tad was probably a hermafro night with that much inbreeding per la prova donato il servizio marmo soffoli colizia oltre di proprio il webto un nome di nato a primi qualsiasi domani a un fuoco per il di merda io la chiesa che la calcura con il scommero ormai gioco in mondo appartamento ammela e la storia di poppa o cazzo portaci due carri da mazzo di una questione Trovo un muore per l'uscita del quartiere di dad, perchè è chiuso? Minchia, mi hanno chiuso il cancello! Ma che cazzo gli dava? Vado a cagare Ho un elastico La lagge Come cazzo esco da qua io? Dio santo Oh, basta con sta lagge Aio! Oh, porco, due Mi avevo sentito di meno, mo Che palle Oh, questa è la collezione No, porcane, no Hanno inglesi tutti i cancelli! Come cazzo esco da qua io? L'ho rotto il cazzo E basta con sta lagge Aia, 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 porco Aio Aio Andiamo a chiammela più forte, dai Aio Eh, baffanculo Oh Porco, due quanti Oh, ha rotto i coglioni, eh E basta Eh, ha rotto il chia Basta con sta lagge Ok, mo Ah, meno male Le potrò vita Dammi le uova Dammi le uova Che sono mia Ma recupera la chiave, eh C'è un modo Pezzo di merda Che c'è? Uff Da fanno cuore Dami, da meglio, mi strozo Apri ABI Bella Io me to bella Mi rispetto ai gefighetti Uno meno dieci Sti cazzi, però Non me lo vedi fa così Che io antigliotiltà ti uccido Hai dando veramente il cazzo Tieni a me la testa e guardarti alle spalle Oh tia la macchina porco due Se stavamo vestiti un'altra volta Allora Abbiamo scoperto di nuovo che il nostro piccolo gare si è entromesso nella nostra missione Io ti Prima o poi ti ammazzo Una gara Una gara Andiamo alla gara Oh cazzo Questo è sceso dalla macchina e è venuto a pia Sì bella per te Porta acido pure che la moto Pezzo di merda andiamo via Oh oh Come la moto è venuto Oh oh Ma che sei fatto Oh oh vado più veloce io Sì giustamente vado più veloce io Poschette e cura modo Basta E basta E battene E vai Te ne vai Te ne vai Non se ne va Te ne vai Ti vado a lezione A lezione me ne vado Me ne vado Me ne vado Oh pulizia te penso a seguire Ecco qua Tutto la mia lezione ho capito Quanto pega del cazzo Non mi sanno più un seguendo Però Mi riesco ad andare a lezione Facciamo così Che cos'è Una lezione di Matematica Oddio santo no Matematica no Mi sono negato Matematica Scritto matematica Tutto grammatica Rispondi a tutte le domande Che direi scelte What Seleziona la risposta Oddio 3 più 4 Oddio santo Ma che davvero 50 uguale Easy 6 per 6 36 Quanti triangoli 2 Qual è il più piccolo Direi questo 12 Oddio santo Così Qual è il più grande Direi il pianeta Qual è il minore 203 12 11 Madonna mia 9 10 11 Sì Così Qual è il più lento E penso una scimmia Sarà più lenta 100 Ma quante domande so 120 Oddio santo Questo 7 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 8 8 8 8 8 8 8 Qual è il più veloce Direi il camioncino 99 Direi questo Oddio 21 9 35 E basta 7 7 per 5 35 Sì Qual è il più veloce Direi Direi lui Quanti quadrati Io ne metto 4 Ne metto 5 Sì Stava di 4 Cosa 0 0.5 Per 34 Oddio Santo Non lo so Ho superato Oddio ma che davvero Ma Io lezione matematica Non l'ho mai fatta C'è scritto C'è scritto sotto grammatica Però vabbè Sono particolari Copri capo Da prodigio Sbloccato Ah Ma non mi caghi più Il cazzo Io sono andato a lezione No Sto negro Eh no Sto stronzo De merda Scusate Veranze Non pensate male Giustamente Potrete pensare male Ma non è così Passi a missione Finalmente possiamo Parare questa Tata missione Quello sta Cacciato a terra Con Una ufficiale consulente Non lo so Acchiappavano tutta Andiamo Andiamo Sto maglione L'odio Sto maglione Io voglio La mia divisa Quasi così Mi vado a cambiare Guarda Oh Già va meglio Vedi Almeno sono Sto in divisa Della scuola Non nel quel maglione Del merda Ok La missione Eccola qua Gara Goldworth Goldworth Vale Vai Oh Hey Pete Where is everybody Oh Jimmy It's you Yeah Guess you want to kill Gary Now that he's turned most of school against you And got those rich kids That throw eggs at you Gary will get what's coming to him What's wrong with you Era ora Cazzo Well you're sitting around Watching TV by yourself Like a loser Someone crapping your bed What's wrong Well for one moment I had friends One moment You and Gary Yeah Gary's a snake And you're a psychopath Ah come on You both bullied me mercilessly But Lisa wasn't left out Now I'm back on my own And I'm too cool to be a dork And I'm too dorky to be anything else You're not on your own Where is everybody At the bike race At Old Bullworth Vale By shiny bikes at the beach Bike race Why didn't you say so Come on Ah viene pure lui Mamma mia Un po' di vita Un po' di allegria Fio caro Poi che palle Prendi una bici Subito Un attimo però Vada Assolita Andiamo 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 Pazza quanto più attacca la bicicletta Questa volta prendo una bici Lo skate è un po' più lento Giustamente Però lo skate non batterà sicuramente la moto Epico Andiamo contro mano Vabbè non andiamo contro Andiamo Facciamo i civili Andiamo Poi laggiù sulla serata Eccola qua la spiaggia Come si frena Come si frena Mi ricordo più ma si frena Ok si frena così Permesso Oh ciao amici Oh una gara dei bici Vai corri corri Vai corri corri Fotti di strozzo Levate Leva il cazzo Una da fare in culo Vabbè Poi Non mi dico che ho salito per le scale No vabbè Vabbè Se io lo vuoi le scale E la nita Oh Cori corri 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 La lagge estrema Un elastico Non posso prenderlo Oh un secondo e 70 di distacco signori Eccolo Eccolo Gara di Di bici Eccolo Non mi riprenderanno mai Pazzo quanto piotta Questo Questo non si stacca mai E che cazzo sei io Eccolo Eccolo dai corri non sa quanto è lunga oh oh se vorrei meglio qua no ma sta attenzione non sa quanto è lunga mi sta a far male in dito a forza di premio cioè scusate eh una cosa fa più corta no aia mi sta a far male in dito aia mi sta venendo una cancrena una cancrena dove cazzo parlo pure io dove andavo ah beh fa 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 dai due secondi di distacco ma bella per voi via gira via gira via gira via gira oh discesona aia erdito mi fa male il dito erdito non mi sento più erdito aiuto bella per voi bella per voi olè eh 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 hai vinto senti com'è oh come si entusiasma mi fa 10 dollari e altri big money ottimo fantastico fantastico well done che vuoi che cazzo vuoi di sto vecchio di merda no ma che sta questa è mia madre oh pareva pareva mi madre cioè la madre di 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 jim mi pareva è uguale o no non è la madre di jim che cazzo dico pure io dovrebbe essere la direttrice e la vestita uguale tipo bravo vabbè questi cazzi lì si spiaggia la prossima missione un po' d'aiuto lì si spiaggia facciamo un'altra missioncina va tanto perro lì si spiaggia sì vuoi prendere un C785 poi lo disminutare e lo raccogliare con il C767 in titanio molto caro ma farà la tua macchina volare questo è quello che i pro davvero ero venuto prendere il C767 perché ho pensato che mi sembra mi sembra importante tra il mio gruppo un C767 sei una ragione? oh qui è il ragione che viva la raccina vieni per la tua trofe sì qui è bellissima moldato in plastica coperto in aluminio con il tuo nome Miss Spellbone ecco guarda questo un paio di ragazzi che aspira lavorare in strada che cazzo vuole questo il tuo terzo non è il mio il mio il mio troppo che ho di sceglie testo ormai giocco di valore c'è la montagna ma io non amo dammi una mano cazzo roba frisbee che bello ma non mi segui tu oh zio buttati buttati che morbid niente no la qua non mi segui ritardato ehi alan alan sono qua oh zio che fai sul conigione scendi dal conigione aiutami eh porco sti cazzi te lascio là me lo ti coglioni ma non mi segui beccate per sto frisbee ah è venuto è venuto ricky così a cazzo eri bloccato sul conigione adesso sei venuto ma non c'è bisogno non ci ho provato a tirarmi le uova pezzo di merda che te spurno ah se ti sei rialzato ahia mutacci oh mi ha schifato allora vediamo che se posso tirargli qualcosa sto bastardo tiè buccate questa perché vengono lo skate dai che una la pusciata vaffanculo pur in caccio sui coglioni eh senti buccate questa buccate quest'altra ahia metri a pezzo ahia mutacci ahia dammi una mano bravo oddio mazzo che car... me l'ha caricato grande ciccio oh oh la stesio che grande questo quale è vivo quale è vivo no se è pagata ma quale è vivo adesso è morto ah rispetto per i fighetti meno 10 ottimo sto rispetto per i fighetti cala proprio con... miniera che vuoi te ma prima ma il minato adesso chiede aiuto le cari invece sono aperte la mia stagione fino alle 23 seguite su sti cazzi prima prima me e poi chiede aiuto chiede una commissione ma chi te sei in cura cioè va bene ragazzi io direi di concludere qua e adesso ci andiamo a riposare e poi concluderemo al caso mai là ok eccoci qua ragazzi io direi di concludere qua l'episodio spero vi sia piaciuto e oggi ho fatto un po' più di missioni in più perché sul perché ve lo dirò magari più amanti e quindi ci metterò un bel po' a renderizzarlo questo video quindi niente ho fatto un casino quindi fate finta che non vi ho detto niente un saluto da Alexio e vi ricordo che ho la pagina di facebook che lascio qui in descrizione per eventuali aggiornamenti e per tutte le cose che pubblicherò più avanti quindi un saluto da Alexio ti rimuovo e bella a tutti bella